Buongiorno a tutti, Roberto Puddo, agente immobiliare Remax. Oggi grande giornata di visita, siamo a Quartu nella via adiacente, a via dell'autonomia regionale Sarda e siamo pronti per accogliere oggi 15 visite e sono io per aiutarmi, sono in compagnia del mio assistente. Come vedete tra un quarto d'ora iniziano i clienti, lui si sta riposando. E da questa parte preparazione per i clienti. Abbiamo le schede, la musica che ci accompagnerà durante tutto il pomeriggio. Che dire, la giornata è fantastica, confido molto nella casa, in voi e anche in me. Posso vendere anche la tua?